Dunque, dunque, adesso vediamo un po' il registro E questo cos'è? E' una minchia Per pacco, lo si direbbe un fallo Com'è che l'avete chiamato? Vabbè, allora glielo ripeto, è una minchia Il vostro lessico è davvero misterioso Come mai questo nome femminile? E' perché alle donne sa tappa Brutti delinquenti Va giusto io, a voi va giusto Oh, è mo' sto coso che d'è? Oio Ah, ce lo sapevo che era il tuo Se vede che non sai proprio a dove metterlo, eh? Grazie a tutti